I diritti processuali e inviorabili dell'individuo sono di rango notevolmente superiore a quelli dell'audience televisiva. Alzano la voce i legali di Edson Tavares che si scagliano contro le esternazioni di Jessica Notaro ballando con le stelle in una lettera pubblicata sulla stampa locale. Durante il programma TV, a cui la giovane riminese sfregiata con l'acido sta partecipando raccogliendo consensi e successi, in alcune occasioni Jessica ha parlato di quanto le è accaduto, dichiarando di avere paura che l'ex affidanzato si ripresenti una volta uscito dal carcere per farle del male. Tavares è stato condannato in primo grado per l'aggressione con l'acido e per stalking per una pena totale di 18 anni. Ma, sottolinano gli avvocati Riccardo Luzzi e Alessandro Pinzari, ci sono ancora due gradi di giudizio da affrontare che potrebbero portare ad altri esiti. Per questo sostengono che le parole della riminese portino a un convolgimento emotivo pubblico e un naturale influenzamento giudiziario, a cui Tavares non può rispondere dal carcere. Non si arriverà certo a chiedere la sua estromissione dalla trasmissione, hanno specificato i legali del capoverdiano, che però chiedono parità di trattamento auspicando un intervento della RAI. E per Jessica Notaro hanno un consiglio piccato. Dovrebbe apprezzare le sue nuove e meritate opportunità professionali, scrivono, evitando la commissione tra spettacoli e vicenda giudiziaria. La replica dei legali della donna non si è fatta attendere. Pensare che i giudici possano essere influenzati da un programma TV non ci pare la miglior forma di rispetto nei confronti dell'autorità giudiziaria.